Tre gare in una settimana non spaventano i ragazzi dell'Ovidiana che dimostrano di avere tanta benzina nelle gambe centrando il terzo successo di fila della gestione Vujacic. Nell'anticipo del girone A della terza categoria i biancorossi battono per 4 a 1 i vecchietti della Ferroviaria Amatori che hanno tanta esperienza alle spalle ma alla fine devono cedere l'intera posta in palio ai giovani volenterossi sulmonesi che sono sempre più proiettati nelle sfere alte della classifica. Ferroviaria falcidiata dalle squalifiche mentre nell'Ovidiana tra gli appiedati dal giudice sportivo c'è solo Grandis. Passano pochi istanti dal fischio d'inizio di De Kellis e di Sulmona quando Spagnuolo spinge Baccari che cade a terra in aria viene assegnato il calcio di rigore che trasforma lo stesso Baccari. Al quarto minuto l'Ovidiana raddoppia con Romanelli che raccoglie un traversone di Pagliaroli e di testa in sacca in rete. Un minuto dopo si vede la Ferroviaria con un tiro di Spagnuolo parato da Imperatore. Alla mezz'ora la squadra di Vujacic cale il Tris, Romanelli penetra in aria e conclude, Sciore non trattiene, la palla si deposita in rete per lo 0 a 3 e per la doppietta del Bomber che sale a quota 19 reti nella classifica marcatori. Al trentaseiesimo la Ferroviaria va vicino al gol con Di Camillo che dopo una punizione di Spagnuolo di testa colpisce il palo. Nel finale di tempo si vede in due circostanze Pagliaroli nella ripresa altro legno colpito dalla Ferroviaria, questa volta con Andrea Ventresca da fuori aria sulla ribattuta Lucci anticipa Di Camillo mandando in corner. Al tredicesimo Sciore anticipa Romanelli in aria e il diciassettesimo la Ferroviaria beneficia di un calcio di rigore quando Di Pietro controllato da Lucci cade a terra, più dubbi che certezze sulla decisione di De Kellis dal dischetto fallisce Spagnuolo che manda in out. Il numero 8 della Ferroviaria si fa però perdonare tre minuti dopo con un tiro che si insacca all'incrocio dei pali per l'1 a 3. Da qui sino al termine si vede solo Lovidiana, si registra un'azione offensiva con il tocco finale di Romanelli che manda la palla in rete ma De Kellis non si sa cosa abbia fischiato. Alla mezz'ora un tiro di Baccari in aria finisce alle stelle e subito dopo arriva il quarto gol bianco-rosso per un autorete di Puglielli dopo una deviazione del portiere su un tiro di Cerpia. Nel finale ci prova anche Alossi con una conclusione di poco a lato. Vittoria importante per Lovidiana che approfittando del pareggio del Capestrano con la rischia per 2-2 si porta a meno 2 dalla prima posizione mentre la Ferroviaria resta ultima a 10 punti. Arriva un'altra vittoria, la terza della tua gestione e dunque la squadra risponde sempre di più alle aspettative del tecnico, è vero? Sono contento per i ragazzi per la vittoria sicuramente ma più quello che vorrei curare come ho detto sempre quando sono appena arrivato e non è che mi è arrivato Leo e cerchiamo di fare chissà che così io voglio semplicemente trasmettere quello che è stato insegnato a me. Stanno seguendo quello che ho chiesto nel senso di giocare a pallone, cercare di girare palla, cercare di essere professionista tra virgolette nel dilettantismo occupandosi di essere rispettoso sugli orari, applicandosi sulla cosa e quello che ho chiesto oggi fondamentalmente è una prima cosa per insegnare che anche se abbiamo giocato con una squadra che anni fa questi erano forti davvero, ma è sottovalutare perché erano ultimi, perché sono un pochettino più grandi di noi, quindi ho chiesto massima serietà e impegno e l'importante è che abbiamo portato la terza vittoria e continuiamo sempre a sperare. Quindi ci sono miglioramenti sotto tutti i punti di vista, questo mi sembra di capire da queste due dichiarazioni. Sì, io devo dire che le ho viste, si vedono, c'è entusiasmo giustamente, poi è più facile lavorare quando tu fai tre vittorie su tre e iniziamo a crederci un po' tutti quanti, quindi siamo un po' contagiosi di queste cose, quindi si iniziavano a vedere dei piccoli cose, piccoli miglioramenti, fondamentalmente l'applicazione che è la cosa che più mi interessa perché se ti applichi puoi imparare, puoi crescere, se non ti applichi rimaniamo sempre lì, non facciamo nulla. Tre partite che hanno fatto perdere la voce a Vujicic, a fine campionato come sarà? Beh, mi auguro senza completamente, basta se porta bene, vinciamo, vorrei rimanere pure senza voce. No, io sono contento, ripeto, per la terza vittoria, continuiamo ad essere lì, oggi ragazzi più di qualcuno aveva degli impegni pure chi al lavoro, chi per una cosa e hanno sacrificato pure questo pur di esserci con noi per giocare, quindi un grazie particolare anche a loro e anche i tifosi che come fai a non dire grazie a questi qua che ovunque andiamo ci stanno sempre con tanto amore per questa maglia. A questo punto si può dire che quest'altra vittoria serve non molto, ma moltissimo ai fini della classifica per questi play-off che non vogliamo dire che sono vicinissimi, comunque Lovidiano ha messo una serie in pronta quest'oggi. Sì, hai ragione, siamo lì, terza vittoria, cerchiamo di rimanere sempre nella zona alta per cercare di quantomeno provare a rimanere nella zona pre-off, poi lo sai meglio di me, può succedere di tutto. E' importante perché la vittoria secondo me, perché abbiamo fatto tre partite in una settimana e a questi livelli non è facile, non ci alleniamo come si deve, quindi questa settimana facciamo domenica lunedì riposo, martedì partiamo, abbiamo una bella settimana per lavorare con calma e provare di nuovo a vincere la prossima.